Voglio ringraziarvi innanzitutto che tutti siete tantissimi, veramente, anche per averci aspettato. Voglio ringraziarvi innanzitutto perché credo che essere qui oggi significhi partecipare a questo evento che apre questa nostra campagna elettorale. Quando dico nostro, non intendo soltanto la campagna elettorale mia e le pianttoniche, ancora una volta voglio ringraziare per avermi scelto in questo ruolo dedicato per essere al suo piano fino a 10.000 in questa battaglia importantissima. Io penso che questa sia la nostra campagna elettorale, la campagna elettorale di tutti noi, perché noi oggi qui non presentiamo un progetto personale, un progetto meramente elettorale, noi oggi vogliamo raccontare alla città, come diceva prima Massimo, un progetto collettivo, raccontiamo una squadra, un percorso condiviso e noi un progetto al quale ciascuno di noi a suo modo, nel quale ciascuno di noi a suo modo è un periodista e che ha un unico obiettivo, guardate, che è uguale a questa sinistra e che è rispondere a tutti i messi, in particolar modo i giovani e i ragazzi, che comunque in modo della città si risperano, vengono, cercano di arrivare a fine, a me sono con grandi difficoltà, ma che allo stesso tempo sperano e credono che questa sia la città nella quale costruire il loro futuro. E noi per questo credo che questa città la dobbiamo rigenerare, la dobbiamo riqualificare, la dobbiamo ricostruire, la dobbiamo, se è necessario, rimettere in piedi. E perché no? Mi piace dire, rivolgata con un cazzino, modificare sicuramente questi quelli che sono i paradigmi con cui oggi l'abbiamo risposta. Per me si deve fare anche una piccola nota personale, io non credo che questa sia un'impresa facile, ma non è stata un'impresa facile, anche per me, in questi anni, scegliere di non andare via, scegliere di testare e di costruire un equilibrio futuro, scegliere di non essere l'ennesimo dei miei amici che prendevano le valigie, perché dopo una testa non mi mandavano via. In realtà non è stato facile, ma alla fine è forse l'unica cosa che avrei potuto fare. Anche spesso mi domanda di cosa vuoi fare, se le cose albergo, se questo impegno comunque abbia avuto un rispondo nella mia vita. Io rispondo la stessa cosa che mi sono risposta quando per la prima volta stai dicendo ho deciso di guardarmi intorno, di guardare quello che c'è intorno a me, ma lo so. Ho deciso di chiedermi non soltanto che cosa la città potesse fare per me, ma anche che cosa io potesse fare per questa città. E credo che questa sia la risposta che è la ragione che noi ci siamo qui. Siamo qui perché noi questa città la vogliamo cambiare. Siamo qui perché noi questa città la riposteremo da avere un pozzino. Quando dico questo lo dico perché penso che prima di restituire questa città che hai visto nel tuo libro che dice, per me se è una città dolente, una città sofferente, che sembra senza futuro, ma per poterla ripostruire. Noi a questa città dobbiamo restituire una visione. In un modo nell'altro noi dobbiamo risultando un po' generale, un po' che passi dai bambini ai bambini, 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 perché questo credo che sia una città che invecchia costantemente, che invecchia giorno per giorno. È una città che perde ogni anno 3.500 delle sue risorse migliori. Significa che, facciamo anche questo partito calcolo, circa 300 risorse all'estero, 100 giovani, prendono i loro sogni, le loro competenze, ed è questo da un'altra parte. E' come immaginare un piccolo paese, una piccola comunità di noi, che si sdrae dalle porte delle sue radici antrone, da un'altra parte, lontano da qui. Ecco, io credo che se noi davvero dobbiamo costruire una città nella quale credere, dobbiamo e possiamo ripartire da qui e rimettere al centro chi trova. Rimatterà il centro di nuova di fermare questa immigrazione forzata, questo trend che tutti ci raccontiamo e tutti ci lamentiamo. E poi, in fondo, nessuna amministrazione, c'è anche quello che c'erano prima e quello che ci sono adesso, ha davvero messo al centro il proprio obiettivo e il proprio obiettivo. E' molto certo che cosa significa. Io credo che significa che considerare il gruppo di politica giovanile, non come una delle tante deleghe da assaiare, ma proprio una deleghe, quelle delle delle attraverso, perché in ultimo, ma ci sono un interno che deve caratterizzare tutta la parte del nostro programma del nostro intervento. Per cui io credo che, per rimarrere al centro i giovani, significhi pensare delle politiche abitative che siano di volte i giovani, significhi ripensare la comunità urbana, che possa essere di volte i giovani. Significa più cultura, più servizio, significa una politica dello sport, che non fossi soltanto di giornale da partire alla ricerca, significa comunque ricostruire e ripartire, non soltanto vanno sul disperso delle briline, ma anche in quanto delle scuole, in quanto tutto quello che ha costituito un'idea e darà un futuro. E io immagino in questo senso, anche credo che oggi sarà attaccuato di fare consensato un coordinamento permanente che accompagni le stesse scolari e che si preoccupano di comprendere come ogni azione amministrativa abbia un impatto sull'autonomia, sulla dignità delle plastiche qualifiche. Quindi questa deve diventare una città, una città, una città, una città di donne, consensibile, un po' parziale di questa cosa. Io non credo molto, in questo parere, in questo valore assoluto che è essere giovani e essere donne. Credo anche il valore che i giovani e le donne possono portare anche il valore che i giovani. Grazie. Grazie.